In collaborazione con Libreria La Parola Un libro per ciascuno di noi Libreria La Parola Corso Mazzini, Figline Valdarno Ben trovati, nuovo appuntamento con Word quindi un'altra settimana in compagnia dei nostri amici libri sono alla Libreria La Parola ma questo ormai lo sapete in Corso Mazzini a Figline Valdarno con me, come al solito Beatrice per quanto riguarda il salottino Samuele non c'è anche in questa puntata lo salutiamo e poi i ragazzi del Liceo Linguistico Giovanni da San Giovanni di San Giovanni Valdarno che li troveremo dopo nei salottini come al solito inizio io inizio con questo libro il nuovo libro di Alberto Maggi Due in condotta è un libro voluto a grande richiesta dai lettori che volevano sapere come continuava la vita di Alberto e quindi ci proiettiamo in un'Italia del dopoguerra con Alberto Maggi bambino un bambino vivace un bambino che ovviamente cresce che lo vedrà costretto in una scuola che non sempre lo capisce lo troveremo come tutti i ragazzi nell'infatuazione del primo amore e poi lo troveremo in quella che è la sua vocazione la sua vocazione all'inizio ostacolata dalla famiglia ovvero quella di farsi frate tant'è che io lo ve l'ho presentato come Alberto Maggi ma in realtà dovrei dire fra Alberto Maggi Due in condotta questo è il suo nuovo libro un libro divertente un libro ironico un libro solare come divertente, ironico e solare è il suo autore è edito da Garzanti e il costo è di 16 euro ed eccoci al primo salottino con me Emma ciao Emma ciao e Giacomo dall'altra parte ciao Giacomo dopo ci sarà anche Beatrice ci vedete in formato ridotto un salottino a tre dopo nel prossimo salottino arriverà anche Beatrice allora partiamo con Emma e partiamo con un libro che piace molto alle ragazze in maniera particolare un libro diciamolo strappalacrime strappalacrime estruggente giustamente è A un metro da te di Rachel Lippincott edito da Mondadori sì questo libro è piaciuto molto anche perché questi genere sono mi piacciono molto soprattutto quelli romantici strappalacrime un po' appunto per noi ragazze però lo consiglio comunque anche a un pubblico maschile e appunto in questo libro si parla di questi due giovani ragazzi Stella e Will che si trovano appunto a affrontare questa malattia che è la fibrosi la fibrosi scistica è una malattia non molto conosciuta però comunque molto dura da affrontare e infatti questi due ragazzi si trovano sempre in questo ambiente ospedaliero e il titolo è dovuto al fatto che loro due devono stare sempre a due metri di distanza come minimo poiché tra di loro avendo la stessa malattia potrebbero intaccarci dei batteri e questa cosa potrebbe essere anche a loro fatale appunto comunque per quanto riguarda i personaggi si vede un legame che instaurano i due nel percorso del libro appunto anche del film poiché il libro è trattato dal film e si vede come questi due ragazzi si influenzano positivamente a vicenda e contribuiscono alla loro cura comunque vediamo che la ragazza cioè Stella è più propensa e più tenace anche nelle cure perché vuole guarire e a meno cercare di guarire per il trapianto dei polmoni mentre il ragazzo è un po' più scoraggiato perché vuole godersi la vita giustamente perché ha passato tanti anni girando per ospedali avendo opportunità di fare altre esperienze a causa di questa malattia appunto e comunque è molto bello perché si vede questi due ragazzi nonostante la malattia e le due prove da non affrontare si legano in maniera particolare e pur non potendo sfiorarsi tra loro si instaura il rapporto di amore forte una bella storia d'amore purtroppo ambientata in un ambiente che è quello delle malattie una malattia particolare una malattia tremenda come la fibrosi cistica ma è un libro che dobbiamo leggere col pacchetto di fazzoletti a portata di mano vero Emma? soprattutto per noi donne sensibili sì soprattutto per noi donne sensibili e allora è di Rachel Lippincott a un metro da te edito da Mondadori il suo costo è di 17 euro bene grazie Emma abbandoniamo il salottino per un attimo voi venite con me che è il momento di un mio racconto di nuovo quando dico così sembra che sia una cosa scritta da me è il momento che io vi racconti un libro che ho letto ecco eccomi ancora qui con un libro per bambini un libro per bambini di Anna Confallonieri Prandini concerto di grilli e spighe di grano un libro struggente un libro per bambini ma un libro struggente un libro poetico siamo in Siria nella magica Siria però sconvolta ahimè dalle guerre guerre che devastano guerre che uccidono guerre che feriscono come succede alla protagonista una pianista che perde una mano e quindi ahimè non può più non può più sonare e si vede così come dire in pericolo l'annuale concerto che è sempre stato tenuto ma succede qualcosa di imprevisto che tutti gli elementi della natura gli animali le spighe di grano le farfalle le libellule tutti gli animali inizieranno si metteranno d'accordo per poter organizzare un concerto e direttrice d'orchestra sarà pur senza una mano ma nell'altra può tenere salda la bacchetta la protagonista di questo libro è veramente come vi dicevo un libro struggente ma un libro da leggere insieme ai nostri ragazzi come dico sempre non lasciamo lì soli nemmeno nella lettura di Anna Confalonieri Prandini concerto di grilli e spighe di grano è edito dalle edizioni Pauline il suo costo è di 18 euro e adesso ci trasferiamo dall'altra parte per l'ultimo salottino di questa puntata ultimo salottino per questa puntata Beatrice a te l'onore e il compito di raccontarci di Alberto Simone ogni giorno un miracolo sì allora io ho scelto questo testo perché avevo apprezzato molto il suo primo ovvero la felicità sul comodino che abbiamo consigliato e è stato venduto in moltissime copie qui in libreria da noi e quindi sono andata un po' sulla fiducia nei confronti dell'autore e devo dire che non è rimasta delusa è un manualetto semplice di facile lettura anche perché ha capitoli brevi per cui di quelli che si tiene appunto come dice il titolo del primo sul comodino e all'occorrenza si utilizza un po' come una medicina anche quando siamo un po' giù uno di questi manuali un po' di autoaiuto che in questo periodo vanno tanto di moda però non tutti hanno lo stesso valore e qui devo dire che glielo riconosco obiettivamente Ogni giorno un miracolo recita il titolo e infatti è quello che l'autore è arrivato con la sua vita con la sua esperienza proprio a dire con convinzione di causa nonostante la vita non sia stata sempre dolce con lui come chiunque del resto ha dovuto attraversare i momenti di difficoltà le varie prove però è arrivato proprio a dire che ogni giorno se vissuto in un certo modo se visto con occhi disposti a farsi stupire è davvero un miracolo perché tutte le circostanze che ci capitano che viviamo giorno dopo giorno possono essere lette interpretate vissute in maniere differenti e sta a noi proprio dargli un contenuto e un valore e se sappiamo guardare con occhi aperti riusciamo a trovare un valore anche nelle cose più più complicate più negli ostacoli più duri come dicevo è fatto di capitoletti 3, 4, 5 pagine massimo ciascuno e quindi non è un romanzo non importa leggerlo tutto insieme ma ciascuno riesce a trasmettere qualche cosa di positivo e per esempio uno di questi racconta la storia peraltro abbastanza nota dei due lupi che sono presenti in ciascuno di noi un lupo buono gentile compassionevole un lupo invece aggressivo cattivo che ha dentro cose negative e questa è una storia che viene spiegata a un allievo da un maestro e appunto sono costantemente in lotta fra loro e al che l'allievo dice ma chi dei due vince e il maestro dice quello che tu nutri di più ovvero siamo noi di fatto che possediamo entrambi gli aspetti dentro di noi aspetti positivi aspetti negativi ma che se siamo in grado di nutrire gli nostri aspetti più belli più luminosi siamo poi in grado di distruggere quelli più negativi dobbiamo una delle tesi di Simone che non si combatte il buio con la forza con la lotta appunto ma dando più luce accendendo maggiore luce quindi dando più spazio alle nostre cose migliori riusciamo a far regredire quelle che ci piacciono meno e piacciono meno poi anche alle persone con cui abbiamo a che fare per dirvi perché leggerlo io voglio leggervi proprio le parole dell'autore stesso quella che sta per leggere è una specie di storia d'amore o meglio la condivisione di un innamoramento l'innamorato sono io e l'amata è la vita stiamo insieme ormai da qualche tempo e a essere sinceri tra noi non sempre sono state rose e fiori abbiamo avuto i nostri contrasti e le nostre incomprensioni ma in fondo la cosa più difficile è stata capire il modo a volte incomprensibile in cui la vita sceglie di amarti alla fine credo di aver compreso cosa volessero da me cosa volesse davvero da me una resa è condizionata al suo amore comunque scelga di manifestarlo perché contrariamente alle mie pretese è sempre lei che conduce la danza in totale autonomia e questo proprio sono parole sue quindi meglio chi di Alberto Simone ci può dire perché leggere il suo libro ogni giorno un miracolo edito da Thea il costo è di 15 euro abbiamo concluso anche questo salottino Beatrice io ti ringrazio ringrazio Emma ringrazio Giacomo e saluto anche in questa puntata Samuel che non è con noi ma dalla prossima puntata tornerà a a ricoprire il suo ruolo di raccontatore di libri come tutti noi facciamo voi venite un attimo con me che vi voglio fare il riepilogo di quello che abbiamo letto di quello di cui abbiamo parlato in questa puntata e come preannunciato i libri di cui abbiamo parlato in questa puntata ho iniziato io con il libro e stavolta ve lo presento con il suo nome completo Fra Frate Alberto Maggi due in condotta edito da Garzanti il suo costo è di 16 euro nel salotto Emma ci ha raccontato il libro di Rachel Lippincott edito da Mondadori a un metro da te il suo costo è di 17 euro io vi ho parlato di questa favola meravigliosa estruggente ambientata in Siria concerto di grilli e spighe di grano di Anna con fallonieri Prandini edito dall'edizione Pauline il costo è di 18 euro e poi di nuovo nel salotto Beatrice ci ha parlato di ogni giorno un miracolo di Alberto Simone edito da Tea il costo è di 15 euro bene se questi erano i libri di questa puntata il catalogo della libreria La Parola ovviamente è molto più vasto basta venire a Figline Valdarno in Corso Mazzini e scoprire tutto quello che la libreria La Parola ha da offrirci iniziamo proprio entrando con le ultime novità accompagnate da una parte dalla saggistica e alle spalle sulle scafalature dai sempreverdi gli vergrin quelli che perlomeno per quanto riguarda le recensioni della libreria La Parola sono i libri che non passano mai di moda proseguendo troviamo un ampio settore dedicato alla letteratura a carattere religioso e per finire qui dove noi registriamo la nostra puntata i libri dedicati ai nostri ragazzi la letteratura per ragazzi che io consiglio sempre di leggere anche noi adulti e soprattutto di non lasciare mai soli i ragazzi quando leggono ma di seguire sempre quello che leggono e magari in alcuni casi leggere insieme a loro detto questo che cosa dirvi se siete rimasti incuriositi da uno di questi libri basta venire qua ma se voi avete in mente altro venite lo stesso perché ripeto il catalogo è veramente grande se poi per caso quel libro che state cercando in quel momento non è presente in libreria non dovete preoccuparvi perché basta ordinarlo i tempi sono 3-4 giorni a secondo delle case diatrici e degli autori il libro arriva qui in libreria voi lo ritirate lo pagate ovviamente e poi ve lo leggete tranquillamente nella vostra poltrona preferita nel vostro divano a letto la sera prima di addormentarvi dove meglio credete perché leggere fa bene e è bello leggere ovunque si possa magari anche in macchina durante la pausa pranzo perché no detto questo che dirvi noi ci vediamo la settimana prossima io ringrazio Franco Salucci che è stato come tutte le puntate dietro la telecamera e noi ci vediamo la settimana prossima ciao a tutti in collaborazione con Libreria La Parola un libro per ciascuno di noi Libreria La Parola Corso Mazzini Figline Valdarno per ciascuno di noi per ciascuno di noi Grazie per la visione!